Ieri in live sono andato a mettere come nome del mondo Aerobrine e subito ho notato che nel gioco c'era qualcosa di strano Difatti mentre camminavo ho trovato una foresta però senza le foglie Da cui mi sono spaventato veramente molto e ho iniziato a pensare che ci fosse veramente Aerobrine nel mondo Quindi oggi sono andato a indagare maggiormente Ma prima di partire ti ricordo se ti sto simpatico puoi cliccare sul tasto del mi piace ed iscriverti al canale Ma ora direi di andare alla ricerca di Aerobrine Non me lo spiego stavo letteralmente qui mi sono trovato la foresta senza le... senza gli alberi Non capisco come nemmeno è successo questa cosa Però c'è un problema ragazzi adesso sta iniziando a diventare notte Sta iniziando a diventare notte io direi di andare a dormire questa notte così ci scampiamo qualsiasi pericolo Sta iniziando a bruciare qua la roba andiamocene 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 Dato che le pecore abbiamo ucciso facciamoci il letto andiamo a dormire Vediamo il possibile questa foresta qua dietro così Vabbè noi ce ne andiamo Oh abbiamo trovato un villaggio buono buono il villaggio è molto buono molto 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 buono il villaggio Andiamo al villaggio ragazzi andiamo al villaggio andiamo al villaggio Comunque sì dobbiamo cuocere anche il cibo Andiamo al villaggio vediamo cosa riusciamo ad ottenere da questo Aia Ok così non mi può uccidere tecnicamente Dimmi che qua c'è una grotta Ferro 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 Ce lo prendiamo tutto ce lo prendiamo tutto No No Ragazzi ma Aerobrine sta anche nelle caverne No 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 oddio Che cosa Quello non era un dito qualcosa No raga ho paura Dobbiamo dormire dobbiamo dormire Dormi dormi ti prego No Aerobrine No 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 Scappa Scappa da Aerobrine Scappa da Aerobrine Scappa muoviti Muoviti Ragazzi Ragazzi mi avvi Scappa scappa No ragazzi no 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 scappa Eccolo No 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 pure la No ne è spawnato un altro Oddio no 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 La lentezza no scappa Quanti Aerobrine ci sono là Mi stanno perdendo mi sa Mi stanno perdendo mi sa mi sa Oddio mio Oddio mio oddio mio Oddio mio raga Andiamo alla ricerca di un posto lontano da dove stavamo prima da dove c'era Aerobrine che ci ha inseguito e questa cosa mi ha messo veramente tanto paura qua ci sono anche i guardiani Oh mio dio devo scappare più veloce possibile Ok ho trovato questa savana Questa savana che sembra abbastanza normale apparentemente L'unico problema è sempre Aerobrine Aerobrine sarà qua vicino e come avete visto dall'inizio del video quella foresta tutta distrutta tutta strana E poi Aerobrine ci ha anche seguito Bisogna stare molto molto attenti Là c'è anche un deserto Però qua mi sa che c'è una caverna Dire di andare alla ricerca delle cose perché Oddio mio Oddio 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 sono infestati Oddio Allora mi fanno poco danno ma questi sono di Aerobrine Tengono gli occhi Ok cosa mi hanno droppato la Cusse Dust No no Aerobrine no Oh mio dio no Oh mio dio Aerobrine no Da dove ho spuntato Aerobrine Come ho fatto a sapere dove ero Oddio no scappa 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 Aiuto È scomparso Ha piazzato un blocco lì Che fine ha fatto Che fine ha fatto Aerobrine Oh mio dio no Oh mio dio scappa 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 Oddio mio Cosa 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 Eh com'è Oddio mio Oddio 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 Perché ci sta un pillar di glowstone Oh mio dio raga mi sto mettendo molta molta paura Dove ero Aerobrine Dove sei Non voglio morire così Giovane ho sentito camminare Ho sentito qualcuno camminare Mi sa che sta qua vicino ragazzi Meglio scappare Meglio scappare Lì ci sta quel pillar di glowstone Che mi fa veramente molto paura Ok Ok Gabri calma Gabri calma Gabri Gabri mantieni la calma È solo un personaggio in gioco Che però va a molta paura È solo il fratello morto di notch No Ok Dici un altro lama No Non ho altri lama infestati Ragazzi sono Ci stanno Troppi lama infestati Oddio mio I polli sono normali Ok Apparentemente Sembrano normali Cosa devo combinare I lama Solo i lama sono infestati Finora solo i lama sono infestati Da quello che ho capito Il problema è che qua ci sono solo lama E se ne vado contro uno Mi spona Aerobrine E mi da tutte quelle pozioni Per non farmi capire più nulla E per farmi morire Ok Là è tutto normale Ok Posso passare per di qua Mettiamoci l'acqua Sappiamo ragazzi Dobbiamo scappare da qua Non è per niente sicuro Questo posto Questa savana Pensavo di aver trovato Un posto sicuro Invece Oh il lama di nuovo L'ho visto L'ho visto il lama L'ho visto Questo blocco perché Altri lama Oddio Devo fare tutto il giro Per scappare da qui Mi stanno inseguendo Mi stanno Mi ha visto Mi ha visto Mi ha visto Mi ha visto Dobbiamo scappare Dobbiamo scappare Dobbiamo scappare Sali Sali sulla barca Non mi fa salire di nuovo Ok Scappa Madonna santa Scappa Scappa Là c'è un villaggio De villager Ti prego di mi Che de villager Non ci sia nessuno A meno che non è Non c'è un golem Iron golem Infestato Un villager infestato Il villager senza faccia Non lo so Ma cosa c'è Non ci sono mob Ah no È la piramide La piramide Ragazzi ho visto qualcuno C'è qualcuno nella piramide C'è qualcuno nella piramide C'è qualcuno nella piramide C'è qualcuno nella piramide Ho sentito anche dei passi C'è qualcuno nella piramide C'è qualcuno nella piramide Oh mio dio Andiamo a dormire Andiamo subito a dormire Perché non mi fa dormire È notte È notte È notte Fammi dormire Ci stai Ero ben vicino a me Fammi dormire Ti prego Fammi dormire Ho visto Oddio sono i conigli Oddio sono i conigli Meno male Dormi 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 Madonna santa Ragazzi Dormi Dormi Oddio Oh mio dio No ragazzi Non è possibile Dammi questo Questo Scappa Ci stanno Mi hanno No 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 Oddio mio Oddio mio Oddio mio No 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 Assolutamente Scappa 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 Come se Come se non ci fosse nient'altro da fare Scappa scappa Vattene subito da qua Non è possibile che mi inseguano tutti questi aeroblind Ok Se stanno andando da quello che ho capito Tecnicamente Ok Devo solo mantenere la calma Devo mantenere la calma Allora andiamo di là Speriamo che non spawnano Ne ho altri aeroblind lì Speriamo solo che non vanno a spawnare altri aeroblind da quella parte È l'unica cosa che spero ragazzi Cioè perché aeroblind fa questo? Perché ci vuole colpire? Cosa vuole fare? Ok Siamo molto attenti Assolutamente Siamo molto molto attenti Quindi non vedo niente Per ora non vedo niente Possiamo forse dire che siamo al sicuro Lì c'è la savana Della savara Ho molto paura per quello che è successo prima con i lama Sono un mob che mi vede e sono morto Ok lì c'è un lama Speriamo che questi lama non sono cattivi No No Va bene Va bene ho capito Ti devo affrontare? Ti affronterò Ti affronterò Va bene Facciamoci Andiamo a cuocere subito l'iron L'affronto ragazzi Cuociamo l'iron Ci boxiamo un attimo Cuociamo l'iron Se vuoi che ti devo affrontare Io ti affronto In questo modo Ok ok Tu vuoi che ti affronto? Ti affronterò Però a modo mio Ok Andiamo a prenderci la fornace Ok Andiamo a fare un po' di armatura in ferro Andiamo a farci ovviamente la spada in ferro Perché se lui vuole affrontare noi Noi affronteremo lui Usciamo Colo Eroben tu sei lì Vuoi affrontare me? Tu affronterai me quindi Ok ci proviamo Vediamo cosa riusciamo a fare Tu hai voluto me E avrai me Scomparso E' scomparso E' scomparso Dov'è finito Eroben ragazzi? Ok Eroben è scomparso Però c'è lui Ci sono loro I lama maledetti Ovviamente andrò ad uccidere Ci sono questi Abbannati lama Che abbiamo ucciso Dov'è Eroben? Dove sei? Lo so che ti nascondi qui da queste parti Lo so che ti stai nascondendo qui da queste parti Lo so Tu pensi che io non lo sappia E' normale che lo so Perché se sei talmente scontato Siamo tornati al posto di prima Com'è possibile che siamo tornati al posto di prima? No di nuovo il pilar di Glowstone Abbiamo sempre girato intorno quindi Eccolo Eroben Ti devo combattere Vieni qua Fatti sotto Sta scappando Ah scappi adesso Oh oh no Ho ucciso Eroben? Ho ucciso Eroben? Cavolo Mi sa che forse era meglio non ucciderlo No Non era Eroben allora quello No 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 Quello non era Eroben No mi stanno No 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 Quello non era Eroben Quello non era Eroben No 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 Tutti questi creeper Oh mio Dio Quanti lama ci sono? Oddio no Oddio no Mi vuole morto proprio Eroben Mi vuole proprio morto Oddio 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 ragazzi Sento dei passi Là c'è un altro lama Ma è dannato quella lama Sento dei passi Dei passi E qua mi sa che da queste parti C'è qualcuno Oddio c'è Eroben Oddio 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 mio Ok Raga fa tantissimo danno Fa tantissimo danno No 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 Che sono tu Che 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 No di nuovo tu Di nuovo tu No 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 Io che diamine devo fare Contro di te Non ci credo No Allora ragazzi Grazie per aver visto questo video Io non ci faccio più con Eroben Quindi ci vediamo con il prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi